Esistono diverse tecniche per sfaccettare un dente. La levigatura tangenziale è una di queste. La levigatura tangenziale è molto semplice. Il dente viene semplicemente smussato. Il difetto di questa variante sta nella mancanza di spazio tra il dente e le pareti della corona, che essendo di ceramica non possono essere troppo sottili, altrimenti si spezzano. Il risultato è un ponte con margini spessi e sporgenti. Per nascondere le sporgenze vengono allungati i margini sotto la gengiva. La sonda o il filo dentale rimangono attaccati a questi margini, come anche i resti di cibo. Con il passare del tempo la gengiva si infiamma. Dopo variate infiammazioni si arriva a una recessione. Qui i margini del ponte diventano di nuovo visibili, come viene mostrato nell'immagine. Il pericolo maggiore è dovuto all'attacco diretto della carie alle radici. La levigatura tangenziale è purtroppo la variante più usata.